Adesso vado a preparare la cena per Pierino che torna da Roma Allora, cosa dite? Petto di polvo e verdure tanto per cambiare? Oppure... Aspettate, andrò di questo Rana, duetto, pomodoro e mozzarella Giovanni Rana, te chiedo, te amo Anche se i miei prefè sono che li avevo provati una volta Mamma che voglia che mi viene Quelli alla zucca I tortelli alla zucca che sono dolcini Sono una roba famosa Cremona, non mi ricordo Che roba da volar via Oggi è anche venuta a trovarmi Gloria, la mia ostetrica E mi sta aiutando a prepararmi con tutti gli esercizi di respirazione Stiamo preparando il perineo Anzi, future mamme, se siete come me un po' impreparate Sul suo profilo trovate tantissimi video Oh va bene, anche se io non sono in gravidanza affatto Andrò a vedere questa ostetrica Al prossimo video, ciao!